un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo proprio sulla via crucis monumentale del messina oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che riprendiamo direttamente dall'epistolario numero uno il volume che raccoglie tutte le lettere che padre pio ha scritto con i suoi padri spirituali con padre benedetto nardella e con padre agostino da san marco illamis ecco in questa lettera datata 31 marzo 1912 padre pio si trovava nella sua pietrelcina sappiamo che questa malattia permessa dal signore questa strana malattia ecco non gli permetteva di stare in convento con i suoi confratelli con tutti gli altri frati e doveva tornare a casa quando stava a casa nella sua terra natale pietrelcina li stava meglio ecco lui racconta che comunque tanti malanni fisici lo attanagliavano anche a pietrelcina mio carissimo padre scrive padre pio a padre benedetto memoria delle tante cure praticatemi sento ora che si approssima la santa pasqua quell'anno la pasqua nel 1912 la cadeva proprio il 7 di aprile sento un sacro dovere di non lasciarla passare senza augurargliela piena di tutte quelle grazie che possono renderla felice qui sulla terra e beato in cielo questo padre mio è l'agurio che so farle credo che le sarà graditissimo e in questa solennità poi non mancherò dal canto mio di pregare nella mia indegnità gesù risorto per la sua bella anima sebbene che non me ne dimentichi di pregare tutti i giorni per lei in questi giorni santi più che mai sono oltremodo afflitto da quel barbablu la prego quindi di raccomandarmi vivamente al signore affinché non mi faccia rimanere vittima di questo comune nemico dio però è con me e le consolazioni che sempre mi fa gustare sono tanto dolci da non poterle descrivere in salute mi sento discretamente benino scrive padre pio padre benedetto immagino che lei non è contento della narrazione in generale del mio stato interno ma padre mio la vista mi vuol privare anche di quest'ultimo cioè di andarle a narrare il mio stato interno e dio sa quanto sconquasso mi porta dopo aver scritto un po e ora caro padre arrivederci quando dio vuole dove vuole le bacio la mano e la prego a volermi benedire fortemente il suo frappio cappuccino grazie a tutti